Allora io vorrei parlare di una parola importante per i nostri tempi che è cambiamento perché poco alla volta sono arrivati questi, gli smartphone, dai quali sono diventati tutti completamente dipendenti perché han cambiato il modo di comprare, han cambiato i rapporti sociali, infatti c'è gente disposta a fare ore di coda pur di avere l'ultimo modello di smartphone anche se magari andrebbe benissimo quello con i tasti grandi, avete presente, per anziani che io non compro perché non sopporto la pubblicità con la bambina a rompipalle però in realtà andrebbe bene anche quello, pensate a quante notizie riceviamo ogni giorno sul telefono vere, false, fake news, però non le sappiamo riconoscere, perché? Perché viviamo in un mondo che è dominato dalle bugie, ne diciamo ogni momento, anche in amore per esempio, quando noi uomini chiedono qual è la prima cosa che guardi in una donna, molti uomini mentendo noi diciamo gli occhi, il viso, non è vero, è scientificamente provato che in una donna il primo richiamo sessuale è il fondo schiena, infatti la donna ha sviluppato il seno quando nel corso dell'evoluzione si è passata dalla posizione a quattro zampe alla posizione eretta per avere anche di fronte un'immagine che ricordasse quella del fondo schiena, infatti quando una donna con poco seno vede una donna con molto seno dice che culo, ma anche voi donne dite bugie in amore, per esempio quante volte avete sentito donne belle, bellissime in televisione intervistate e quando queste donne molto belle fanno la domanda che tipo di uomo cerchi, queste donne bellissime rispondono tutte la stessa cosa, cioè cerco un uomo che mi faccia ridere, io faccio il comico da 40 anni, e con una così non ci sono mai stato, quindi anche quelle sono bugie, ma pensate anche a quante immagini vediamo sul telefono, pensate che una persona nel medioevo in tutta la vita vedeva mediamente solo 13 immagini che erano i dipinti che vedeva nelle chiese, oggi ne vediamo migliaia anche in televisione, io vedevo un'ora, i tv dai ragazzi le 5 e le 6 di pomeriggio dove abitavo io, allora si intravedeva Capodistri e Monte Carlo ma per vederle bene mio padre doveva salire sul tetto a girare l'antenna, rischiando di cadere se prima era stato a rispondere al telefono al bar, quindi era anche pericoloso, e i bambini di allora andavano a letto dopo il carosello, che non erano solo pubblicità, erano delle piccole storie dove la pubblicità arrivava alla fine, e la mia preferita di pubblicità era quella dell'amaro con Ernesto Calindri, non so se la ricordate, dove il protagonista Calindri contro il logorio della vita moderna prendeva un tavolino, lo metteva in mezzo al traffico e cominciava a bere l'amaro, pensate al messaggio che veniva dato in questa pubblicità, sei stressato, bevi super alcolici e vedrai che passerà, oggi sarebbe subito una protesta del Kodakons e una multa per occupazione di suolo pubblico, allora in un mondo che cambia così velocemente e anche che ci riempie di ansia, c'è un modo per vivere, non dico felici ma almeno decentemente, secondo me ci vogliono tre cose, avere una passione, perché se hai una passione a volte quella passione può anche farti dimenticare i momenti difficili, avere un po' di inquietudine perché l'ansia ti blocca e invece l'inquietudine è il motore, la benzina della vita, e poi avere un po' di responsabilità, di senso di responsabilità, perché non c'è più nessuno che dice è colpa mia, diciamo tutti lo fanno anche gli altri, per esempio perché ti imbri i cartellini e poi vai al mercato? Lo fanno anche gli altri, perché vai sulla corsia d'emergenza in autostrada quando c'è coda? Lo fanno anche gli altri, perché vai a letto con tua moglie? Lo fanno anche gli altri, e chi sono gli altri? Tutti stronzi, gli altri sono stronzi, noi facciamo le stesse cose ma per noi stessi abbiamo sempre un alibi che ci giustifica. Ecco, io penso che anche in questi tempi difficili di cambiamento, con un po' di passione, un po' di inquietudine e un po' di responsabilità, di senso di responsabilità, potremmo avere qualcosa che forse non è la felicità, ma qualcosa che assomiglia alla felicità che è la vita. Leonardo Manera! Grazie per l'ospitalità! Leonardo, ci hai fatto un regalo enorme! È stato bello rivederti dopo tanti anni! Esatto, tu sei rimasto uguale, noi siamo invecchiati! Siamo peggiorati! Pensate che io faccio questo lavoro ormai da 40 anni! E all'inizio facevo un po' tutto, facevo pomeriggio, festa per bambini, poi in un locale di cabaret e di notte andavo a lavorare in un locale di scambi di coppia. Ah beh! Devo fare 20 minuti prima che aprisse il privé, però c'erano anche alcuni esibizionisti che si spogliavano prima, quindi facevo spettacolo davanti a persone sedute, però completamente nude. Ah, ecco! Sarebbe bello stasera ripercorrere... No, 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 no! Non è il caso, non altro! Magari lo stanno facendo a casa! Magari, altrimenti la prossima volta! Magari, altrimenti la prossima volta!